buongiorno sono monica bergamin e sono supervisor pet e responsabile sviluppo franchising per zooplanet zooplanet nasce 25 anni fa dall'esperienza e la passione nella zootecnia della famiglia avanzetto iniziata nell'84 con tecnozoo in 25 anni siamo cresciuti aprendo punti vendita in tutta italia prima di proprietà e successivamente prediligendo la formula in franchising perfezionata migliorando il modello di business ascoltando le esigenze degli affiliati zooplanet creando un'esperienza su misura buongiorno a tutti mi chiamo ivanzoli con piacere vi racconto la mia esperienza con zooplanet 14 anni fa con mia sorella tatiana abbiamo aperto il nostro primo negozio a pantigliate successivamente anteniate e da pochi giorni il nostro nuovo punto vendita alla chiarella la scelta di aprire negozi con zooplanet nasce prima di tutto dalla passione per gli animali in più cercavamo una formula franchising che ci aiutasse ad iniziare la nostra attività imprenditoriale l'obiettivo di zooplanet è fornire il miglior format per entrare nel mercato nel modo più rapido sicuro e veloce per questo negli anni abbiamo investito molto affinché il team dedicato ai negozi garantisse una copertura completa nei servizi di consulenza marketing e sistemi formativi all'avanguardia quando scegliamo di collaborare con un affiliato zooplanet valutiamo la passione l'interesse per il settore e la location sappiamo che l'apertura di un nuovo punto vendita può migliorare un'area urbana o un quartiere offrendo un servizio di prossimità al territorio sostenendo la piccola economia locale ad oggi posso dire che la nostra scelta è stata vincente crescere assieme affrontare le sfide della concorrenza sono le cose che a me e al mio team stanno sicuramente più a cuore